Wemba, mezzo per Ferri che cerca proprio Malbranchi, in aria Malbranchi, prova Malbranchi! Vantaggio del Lione, diciannovesimo del secondo tempo. Qui intanto Ije si scontra ed è calcio di rigore. Calcio di rigore al termine di un'azione piuttosto confusa. Parte Lacazette, spiazzato Costil, Lione sul 2-0. Lione sul 2-0. Lione sul 3-0. Lione sul 3-0. Lione sul 3-0.